Ciao a tutti, sono sempre io la posta carista e oggi parlo alla recensione di un altro doppiatore italiano e sto parlando di Giampiero Albertini. Egli è artista di allenamenti forti e espressivi e iniziò la sua carriera da piccolissimo nel teatro di Milano e divenne noto al pubblico dagli anni 70 e 80 grazie alla partecipazione a numerosi sceneggiati televisivi di successo come La vita di Leonardo da Vinci, A come Andromeda, Lungo il fiume sull'acqua, Verdi, I promessi sposi e Sero con la televisione fu, nel stesso periodo, fu contruttore della rubrica A come agricoltura e da 72 fu noto nel carosello nella serie pubblicitaria Gli incontenabili per gli elettrodomestici Ingris. Egli partecipò a numerosi film tra i quali I compagni Quindimeda, Uomini contro e la commedia Italia Secret Service di Luigi Comencini oltre a serie poliziesi tra cui Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer e poi Roma a mano armata. Egli iniziò come doppiatore, ricordati in particolare per aver dato la voce della serie televisiva il tenente Colombo, se voi l'avete visto. Uno dei suoi ultimi lavori fu il doppiaccio del presidente iracheno Saddam Assam per un'intervista realizzata a Bruno Vespa, soltanto pochi giorni prima dello scoppio della guerra del golfo. Egli muore improvvisamente il 15 maggio del 91 a 63 anni per un infarto nella sua abitazione a Roma ed è sepolto nel cimitero di Alpi. Egli ha fatto doppiaggio, ha prestato la voce a Peter Folk, invito a cena con delitto, ha provato i domicidi il Cevro sopra Berlino, un maggiolino tutto matto e poi ha prestato pure la voce di Borby nel film L'albero di Natale. E poi ha preso anche doppiaggio nella serie Colombo e poi ha prestato la voce di Edward Hanswer in Mary Tyler Moore e Lou Grant. E' la voce anche di Dan Sanders ai confini dell'universo nella sua prima edizione. Bene ragazzi, spero che questa recensione sia stata piuttosto breve. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e scrivetemi in qualche commento qua sotto. Ci vediamo lunedì o giovedì con il prossimo doppiatore italiano con la lettera A. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!